C'è da chiedersi se toccherà il governo italiano o fare da mediatore per chiarire quale sarà il ruolo futuro dell'Ucraina con l'Europa dopo la virata filorussa legata inevitabilmente alle erogazioni di gas. L'occasione potrebbe essere quella del vertice intergovernativo italo-russo in programma a Trieste il 26 novembre. Un appuntamento tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il nostro presidente del Consiglio Enrico Letta. Il premier sarà accompagnato da quasi tutto l'esecutivo italiano, ci saranno i ministri degli esteri Emma Bonino, il vicepremier Angelino Alfano, della difesa Mario Mauro, dell'economia Fabrizio Saccomanni, dell'agricoltura, Nunzia De Girolamo, Maurizio Lupi alle infrastrutture, Giovannini al lavoro, Maria Chiara Carrozza all'università, la Lorenzina alla salute e Flavio Zanonato allo sviluppo economico. Ci sarà anche Massimo Brai, ministro alla cultura e al turismo. Anche la delegazione russa sarà molto composita. I temi sul piatto della discussione saranno il gas, la ricerca scientifica, gli investimenti portuali, ma anche molto altro. E non si esclude che qualche riferimento alla scarcerazione della Timi Shoenco non mancherà. Era la condizio sine qua non poter ricoverare in Germania l'ex leader della rivoluzione arancione in carcere a Kiev per un dialogo dell'Ucraina con l'Europa. Una condizione però che Mosca non guarda di buon grado e non è un mistero. Trieste sarà una città blindatissima, Piazza Unità d'Italia e Piazza Verdi saranno off-limits. È stata allestita una zona rossa dove i cittadini ed esercenti potranno accedere solo con un pass da ritirare in questura. I negozi saranno comunque chiusi per la durata del vertice, le rive saranno chiuse al traffico tra Piazza Tomaseo e Piazza Venezia sin dalle 8 del mattino di martedì e saranno chiusi al pubblico gli uffici municipali di Piazza Unità. Per preparare la città all'evento si susseguono comitati e riunioni per la sicurezza.